Il presidente Giorgio Lacava che ha perso la voce, queste sono le vittorie più belle? Bellissime perché queste sono le classiche partite che tu pareggi o rischi di perdere, quindi sono felicissimo perché come ho detto già a Pisa questa squadra gioca bene, gioca male, oggi ha giocato male in confronto a Pisa, però è una squadra che lotta fino al novantesimo, oggi è stata la riprova con il gol di Persano. Una squadra che nel momento in cui non sembrava che accadesse niente, ormai il pagheggio sembrava scontato. Sono quei segnali a parere mio molto molto importanti, adesso andiamo a giocare a Siena bene, una bella serata, andremo a giocare a Siena? Penso di sì ormai perché io penso che ripescheranno l'Entella e la Viterbesi la metteranno nel nostro girone, però domenica se c'è sarà una bellissima partita. Sono quelli vittorie che possono cambiare anche il corso di una stagione, nel senso che su questa ci si costruisce un gruppo? Assolutamente, specialmente il gruppo nostro che è un gruppo giovane, oggi hai visto la palla persa da Basiti, che è un classico segnale, giocatore con potenzialità enormi, però ha perso quella palla perché è del 99, a parere mio. e però come ti ho detto la cosa più bella di questa squadra è che lottano fino alla fine, e a me questo mi interessa, poi sappiamo quali sono i programmi, se mi dicevano dopo tre giornate i sette punti, anche se sono un ottimista con due trasferte, Lucca e Pisa, ti avrei detto no, qualche punto in meno, invece va bene così. L'occhio di Piegoni, mentre è passato di gladiatori, Luciani, l'occhio di Piegoni non sbaglia mai. Sì, l'occhio di Piegoni, però a me piace anche Testini, perché guarda che tanti giocatori conosce anche Testini, adesso Piegoni ormai è un'icona, è un grandissimo, io l'ho visto quando siamo andati per questo mercato, conosce tutti, alza il telefono, ci ha fatto arrivare i giocatori qua, sarebbero arrivati però sappiamo anche perché sono arrivati per il nostro allenatore.